Wainer Mazza vince il premio alla carriera con questa motivazione al caratteristico coinvolgente spirito compositivo modulato da Wainer Mazza nelle tradizionali cadenze che si rincorrono tra gli argi di fiume miscelando il connubio musica parola in un unico dinamico movimento liberato nell'istensità ridicamente espressiva dalla gradevole diversità del canto è il colpore del nostro canto popolare nelle feste del Mantovano ha partecipato anche in costume come minestrello inventato sono stati sfungati il nostro canto popolare nelle feste del mondo e una tua parte di un'opera, una tua parte di un'opera un'opera che si sceglie altri poeti, perché noi poeti siamo solo capiti dai poeti, è vero? Chi altro ha scappato dei segni? Grazie per la visione!